E insomma... Sdunci dungi 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 Un carabiniere chieda a un altro E tua nonna? Come sta la tua nonna? Quella che era andata a vivere? Dove era andata a vivere tua nonna? Ah mia nonna? Quella nonna di venire in Francia? Ah le ho scritto una lettera proprio ieri le ho spedita Eh però sai le ho dovuta scrivere piano 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 Perché lei poverina sai non sa leggere molto velocemente Ci sono due carabinieri siciliani che stanno visitando un acquario A un certo punto uno dice all'altro Mi guarda il pesce balla Quell'altro prende subito la pistola e spara al pesce Bang 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 E lo ammazza rompe l'acqua lo fuoriesce tutta l'acqua tutti lo guardano Il pesce palla Muto deve stare Quattro carabinieri Fermano un'auto con cinque tedeschi a bordo Leggono i documenti Audi A4 Ma voi siete in cinque Insomma questi carabinieri cominciano a litigare con questi tedeschi Perché dicono che non possono stare in cinque Questi tedeschi dicono che possono stare in cinque Qui i carabinieri dicono no questo è un Audi A4 Voi non potete stare in cinque I tedeschi dicono Noi potete stare in cinque Questo è un macchina Ma cinque persone I carabinieri dicono no questo è un Audi A4 A un certo punto uno dei tedeschi si incazza Diventa tutto nero di rabbia Basta io volevo parlare Il vostro comandante Non è possibile Risponde un carabiniere Perché il nostro comandante In questo momento Poerino È impegnato Con tre persone A bordo di una Fiat Uno